Lo che voglio segnalare è la posizione molto ambigua del Partito Democratico, perché io mi ricordo che l'anno scorso, quando questa riforma Bonafede è stata varata, e c'era la maggioranza giallo-verde, io sono intervenuto in Parlamento sollevando un'eccezione di incostituzionalità rispetto a questa norma. E, pari di me, anche l'On. Ceccanti, che è un professore di diritto costituzionale... Conosciamo bene, spesso nostro ospite, certo. Ecco, e anche lui ha intervenuto sostenendo le mie stesse argomentazioni circa l'incostituzionalità di questa norma. Trovo sorprendente che, a distanza di un anno, il Partito Democratico abbia cambiato opinione e che cerchi un compromesso su una norma che è palesemente incostituzionale. Anche il cosiddetto lodo conte, cioè l'applicazione del blocco della prescrizione soltanto per i condannati e non per i soggetti prosciolti in primo grado, ha rischi di costituzione gravissimi che sono stati denunciati dalla migliore dottrina costituzionale. Per cui, francamente, non vedo degli spazi seri per una mediazione se non sia quella appunto di accettare la nostra proposta, la prima firma a Costa, la proposta di Forza Italia... Allora, può ricordare al pubblico la vostra proposta, la proposta di Forza Italia? Sì, ma è molto semplice. Quando è stata votata questa legge, cioè esattamente un anno fa, il Ministro Bonafede aveva detto rinviamo di un anno l'applicazione di questo blocco della prescrizione perché nel frattempo noi avvareremo quella che definiva la riforma epocale della giustizia. In questo anno nessuna riforma epocale della giustizia è stata avvarata e neanche si ha chiarezza di quelli che sono i progetti di questa riforma. Ora, la cosa migliore, credo che sia di buon senso, alla luce anche di quello che riconosceva lo stesso Ministro Bonafede l'anno scorso, è quello di bloccare l'applicazione di questa normativa, di questo macigno che grava sulla testa dei cittadini e in attesa che poi si vedano delle norme e che effettivamente migliorano i tempi della giustizia nel nostro Paese. Ricordiamo che il nostro Paese tante volte è stato condannato dalla Corte Europea di Giustizia per la lunghezza dei suoi processi. Ecco, c'è chi sostiene il team che...